Eccolo qua lo stadion. Mapei per l'una. Se decidi le regole sono un pizzichino più elastica che se ci hanno chiesto di venire. Se abbiamo scelta l'alto, non ho dimenticato gli occhiali, sarà un problema. C'è come un po' non c'è visto oggi, non ho capito di guarda. Ma ora è un po' che portatore ciò. E' una telecamera. Ma sa, viene a perdersi e quindi di conseguenza di lì in poi, quindi da venerdì in poi, si potrà giocare. E' un po' che è un po' che è un po' che è il risultato. Quindi non esistono più il pareggio. Anche se il pareggio è un colore dei malattie. Anche se si giocherà in caso. In questo motivo di quale infianto. Però c'è da superare lo stadolo, il primo stadolo è quello che si sta presentando proprio in questo istante, dinanzi a un potenzio che ti è chiamato con la terra. È proprio finito che si uscita e squigliare questo magnissimo rinchiato. Vi ricordiamo qui. E' affascinante. E' un paladino. Vedete che ormai si è riempito. E' un paladino.